Open è un progetto sostenuto da Fondazione Conil Sud, che vede insieme più soggetti, sia profit che non profit. La caratteristica è proprio quella di essere open, nel senso che è aperto in quanto raccoglie in sé italiani e stranieri e questa è l'innovatività. È open anche perché la sua centralità è il rispetto, il rispetto per la persona, il rispetto per le materie e il rispetto anche per un'alimentazione che deve essere una cultura, la possibilità di esportare una cultura dell'alimentazione più saggia. Abbiamo cercato anche nell'allestimento del negozio, grazie al lavoro degli architetti, di dare un impatto che potesse già mandare un messaggio. Infatti, come potete vedere, le nostre vetrine sono dei tubi dell'acqua tagliati e si è creato questo bellissimo muro che sembra fatto di bolle. E poi all'interno delle nostre bolle troverete tutti gli alimenti che dal Calabrese, dai prodotti della rete Calabria Solidale, che ha una storia importante, fino al nostro nazionale, i prodotti tipici dello slow food, biologici, all'etnico. Abbiamo il chilometro zero, abbiamo una varietà di prodotti sempre con quella ricerca dell'eccellenza, della qualità e del rispetto che permettono a chi entra in negozio di poter respirare anche un'aria nuova.